Ecco Primo Maragliulo che prende confidenza coi suoi nel secondo allenamento del nuovo corso. Splende il sole al memmo con i tifosi incuriositi dalla guida tecnica e dal nuovo staff. Ci sono poi nuovi arrivi da valutare. Dai centrocampisti Francesco Bergamini dal Bologna e Manuel Giandonato dal Padova in prestito al terzino sinistro Daniel Di Nicola dal Pescara sono restati il rosso-nero Gaetano Vastola e Guido Marilungo che fino a ieri erano con le valigie pronte destinazione Siena e Terni. Il trasferimento si è complicato al fotofinish. Maragliulo dovrebbe parlare alla stampa nell'appuntamento di giovedì pomeriggio e non sono previsti colpi di scena anche se il toto allenatore ha impazzato in due giorni. Fiducia a Maragliulo e al suo staff che tanto bene ha fatto con la primavera. A proposito, Salvatore Alfieri dagli allievi nazionali è passato a dirigere la primavera rossonera nel classico effetto domino. Cosa stia succedendo nella stanza dei bottoni rossonera non è facile capirlo. Oggi pomeriggio si sono ritrovati tutti attorno a un tavolo per discutere di ogni questione. I rapporti tra la dirigenza e il DS Luca Leone sono diventati tesi a causa della decisione di esonerare la Versa ma dopo anni di collaborazione e attestati di stima reciproca anche questo attrito potrà sanarsi. Tra quattro giorni sarà di nuovo campionato con la trasferta di Vicenza e il dramma di una classifica sempre più vicina al punto del non ritorno. E la Virtus non vince fuori casa da un anno e due mesi. Ma sulla panca c'era D'Aversa, ora con Maragliulo. Hai visto mai?